Grazie 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 a tutti. Quando esci, quando esci a metà campo sull'uomo, non stagli attaccato a due domenici, lascialo andare a metà campo, ma che cazzo te ne frega di venire a metà campo? Ma stai là tu, lui verrà qua, ma che prenda la palla, cazzo è a cento metà. Allora caldà, devo rendere in porta, la ciappa tre oltre da tre, e anche al pipo, venga la banda. Allora caldà, devo rendere in porta, la ciappa tre oltre da tre, e anche al pipo, venga la ciappa, venga la ciappa, venga la ciappa, venga la ciappa, venga la ciappa. Allora caldà, venga la ciappa, venga la ciappa, venga la ciappa. Allora caldà, dà uno pello, venga la ciappa, venga la ciappa, venga la cia puta. Vai vai lei, vai lei! Vai vai lei! Vai vai lei! Vado a terra! Vai vai lei! Vai lei! 1-2! Vai! Vai! A tira! A tira! Vai! Pai! Pai! A tira! Pai! 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 Vai vai! Porca puttana! Andiamo Cuccio, andiamo Pippo! Vai di lassi, vai, vai Dara Anche tu non ci ti dà Oli, oli, cagga il tipo soli, pica, guarda che sei! Vieni su! Chi! Bravo Cristian, bravo! Grazie!